Si trova presso il carcere minorile di Bari in attesa di convalida da parte dell'autorità giudiziaria. Il 15enne è accusato di essere l'autore della coltellata mortale nei confronti del 17enne Francesco Pio D'Augelli, ucciso a Sansevero per questioni di gelosia. Nella tarda mattinata di ieri appunto il minore, accompagnato dall'avvocato di fiducia, si è presentato presso gli uffici della squadra mobile dove dinanzi a pubblico ministero alla presenza della psicologa ha ammesso le proprie responsabilità, ha consegnato anche l'arma del delitto sottoposta a sequestro. Il movente del litigio sfociato nell'omicidio risiederebbe in precedenti attriti tra i due giovani per motivi sentimentali. Il primo litigio tra i 15enne D'Augelli sarebbe avvenuto sabato sera presso un lido balneare di Marina di Lesina. In quell'occasione la vittima gli avrebbe chiesto i motivi dei messaggi scambiati sui social con la sua fidanzata. Dopo quello scontro verbale i due si sarebbero incontrati la sera dell'omicidio quando il litigio è degenerato nella coltellata a fianco. pur sostenendo di non voler uccidere la vittima ci sarebbe come riporta l'Ansa anche un testimone oculare del delitto.